Il rapporto sulle povertà è rispetto al 2021 ma è anche una buona traccia per il 2022 perché il 2022 sicuramente la situazione sta un pochino peggiorando. Sono in maggioranza italiani sposati e quarantenni e spesso hanno figli minori. Questo è l'identikit della maggior parte delle persone che si rivolgono allo sportello Caritas. I dati sono stati diffusi e sono all'interno del rapporto sulla povertà 2021 intitolato incastrati. Purtroppo sono dati che vanno peggiorando ma che da anni ormai rileviamo. Quindi quest'anno abbiamo scelto come titolo di questo rapporto incastrati proprio per dare un po' l'idea di quello che le persone stanno vivendo perché sempre di più tante famiglie, tante persone si sentono proprio incastrate nella loro situazione, nelle loro problematiche e spesso hanno difficoltà ad uscire da queste situazioni, da queste problematiche di difficoltà. Una percentuale, tanto per dare significativo, gli italiani non erano mai i primi delle nazionalità aiutate. Nel rapporto 2021 risulta che gli italiani sono la prima nazionalità aiutata con il 37%. Gli altri paesi di provenienza sono il Marocco con il 12,6%, la Romania con il 9%, l'Albania con il 7% e il Bangladesh con il 5%. La nostra gente, gente residente che aveva quelle attività in cui potevano dare delle risposte economiche alle loro famiglie, al loro vivere in maniera non tanto da allargheggiare ma tranquilla, oggi non lo possono più dare. La maggior parte delle persone che si sono rivolte a Arla Caritas, ovvero il 62,5%, ha dichiarato di essere disoccupato. La parte delle problematiche che sono emerse dal rapporto dell'osservatorio, noi abbiamo per esempio, noi abbiamo che sono state registrate 3673 problematiche differenti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi qualunque cosa da di imprevedibile fa crollare un nucleo familiare, nemmeno una persona, un nucleo familiare, perché i nuclei familiari sono attaccati da tante forze che rendano tutta la situazione di massima incertezza.